E la French, che detta legge, è una maledetta piove. Tutto il mondo sa chi dirige l'organizzazione. Mandiamo un segnale a Zonpa. Facciamogli sapere che la festa è finita. Ok, intervenite. Non stai rischiando la vita! Se toccasse alle nostre figlie, e se capitasse qualcosa a te, hai pensato a me! Lasci perdere, signor giudice. La cosa va a finire troppo in alto. Ma coraggio, ma è meglio che non ci rivediamo noi due. Meglio per chi? Per me o per lei? Per me o per lei? Grazie a tutti